ciao a tutti oggi prepariamo dei tortini ingredienti 120 grammi di farina di riso 25 grammi di feccola di patate 80 grammi di zucchero di canna un yogurt 50 grammi di pistacchi 50 grammi di cioccolato fondente 80 grammi di burro fuso due ova e una banana grazie a tutti 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 grazie a tutti